vado avanti ancora di un attimo poi secondo me un po di pausa cinque minuti ci possono stare e arrivo finalmente no come dicevo prima per adesso abbiamo parlato del diritto d'autore come se fosse un unicum no un tutt'uno ma in realtà sono si dice che il diritto d'autore è un fascio di diritti perché sono tanti diritti che poi spesso vengono come dire acquisiti in un unico in un blocco e ceduti anche in blocco però i diritti sono tanti adesso vedete una slide molto d'impatto cioè molto densa cioè tutti i diritti che la nostra legge che la legge italiana 633 del 41 prevede a favore degli autori e di altri soggetti che lavorano diciamo nella catena della creatività nel mondo della creatività e addirittura forse qualcuno me lo sono pure dimenticato cioè quindi come vedete è molto molto fitta per adesso guardate fermiamoci un attimo al livello qua cioè al primo alla prima dicotomia qua in alto che ci fa capire una appunto questa prima distinzione tra diritti di tipo personale cioè legati alla persona e diritti di tipo patrimoniale cioè quelli che hanno una valenza economica patrimoniale e vedete appunto abbiamo da un lato i diritti tipo personale vengono poi anche chiamati diritti morali d'autore forse li avete li avrete sentiti nominare diritti morali o diritti di tipo personale sono diciamo sostanzialmente sinonimi i diritti tipo patrimoniale invece si suddividono in quattro diverse quattro sotto categorie da un lato abbiamo i diritti esclusivi di utilizzazione economica che sono comunque degli autori poi abbiamo i diritti connessi che sono connessi in quanto vedete appartengono cioè sono relativi ad attività intellettuali che non sono dell'autore in senso proprio ma sono connesse cioè sono di altri soggetti che però fanno un lavoro ancillare e connesso a quello degli autori vedete il produttore discografico il produttore cinematografico gli interpreti ed esecutori dopo li vedremo meglio poi c'è il diritto sui generis che è un diritto appunto sui generis viene chiamato proprio così che nasce da una direttiva europea del 96 ed è quello sulle banche dati che non hanno carattere creativo non abbiamo modo di andare così tanto nel dettaglio è uno degli argomenti più da un lato più affascinanti ma anche più ostici della materia e in un corso come questo non riusciamo ad arrivarci e poi ci sono i diritti di ecocompenso una sorta di diritti di credito che sorgono in capo i titolari di diritti d'autore e diritti connessi e che scattano in alcune situazioni precisamente indicate dalla legge e quindi li vediamo un po più nel senso faccio lo zoom adesso nel prossimo slide faccio lo zoom su queste tre colonne principali allora diritti morali vedete che le loro caratteristiche sono queste qua che trovate a sinistra cioè diritti inalienabili sono considerati diritti inalienabili e inestinguibili strettamente legate alla personalità e alla reputazione creativa dell'autore e il fatto questi due aggettivi inalienabili inestinguibili sono già come dire forieri di non poche criticità dal punto di vista legale perché inalienabile vuol dire che l'autore non li può cedere non se ne può liberare e questo può essere a volte insomma un elemento di disturbo non da poco nel mercato del diritto d'autore perché vuol dire che nel nostro ordinamento l'autore non te lo scrolle di dosso facilmente cioè le case editrici le case di produzione e via dicendo quando mettono sotto contratto gli autori magari danno anche un bel po di soldi non riusciranno mai a togliersi di torno l'autore e le sue pretese e sotto alcuni punti di vista che adesso vi faccio vedere questi quattro perché lui ha questi diritti che sono per leggi inalienabili quindi un contratto in cui venga inserita una clausola in cui vengono ceduti i diritti e i morali d'autore è un contratto scritto da uno che non conosce la materia e infatti quella clausola risulta come se non fosse apposta come se non esistesse perché è nulla e anche il fatto che siano inestinguibili creano un poco problema perché vuol dire che questi diritti alla morte dell'autore vengono trasferiti agli eredi e vengono esercitati dagli eredi in teoria per i secoli dei secoli cioè finché in teoria si riesce a dimostrare una come dire una catena di ereditaria potiamo dire e quindi in alcuni casi ad esempio che ne so gli eredi di Giuseppe Verdi o di Carducci che esistono ancora si sa chi sono possono esercitare questi diritti a tutela della reputazione creativa del loro trisnonno o trisavolo che sia ok e li vediamo brevemente sono il diritto di rivendicare la paternità dell'opera il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore cioè quindi un'opera che viene mutilata storpiata riadattata portata in un contesto che snatura dal punto di vista appunto l'opera cioè dal punto di vista morale l'opera a tal punto che appunto che l'autore si sente violato nella sua reputazione ok il diritto poi di rivelarsi di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore in caso di di opere anonime o pseudonime articolo 21 quindi anche vedete come come è legato appunto alla persona fisica dell'autore cioè anche l'autore che ha per anni magari pubblicato come anonimo come pseudonimo a un certo punto può cambiare idea e chiedere in giudizio cioè può ha un'azione di fronte al giudice esperibile di fronte al giudice per chiedere che il suo nome venga che quelle opere da un certo momento in poi vengono ricollegate al suo nome vero alla sua persona e in più c'è il diritto dell'articolo 142 che è il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali cioè l'autore può anche pentirsi di aver pubblicato un'opera e di averla commercializzata cioè quindi di aver firmato un contratto per poi metterla in circolazione però devono emergere gravi ragioni morali e anche qua insomma dobbiamo fare dovremmo fare un approfondimento che adesso non riusciamo a fare in questo contesto su cosa si intenda per grave ragione morale però un esempio veloce un personaggio tv o un personaggio dello sport o dello spettacolo che si fa un romanzo autobiografico in cui parla di suo padre come figura moralmente cioè di riferimento di ispirazione e successivamente alla pubblicazione del libro scopre che il padre non è il padre cioè quello di cui lui aveva parlato in realtà non è il padre oppure il padre viene arrestato e emerge che è un noto boss mafioso e quindi quella persona che lui descrive nel libro come un modello di moralità in realtà aveva dei grandi scheletri nell'armadio e quindi lui l'autore di questo romanzo ritiene che quella cosa sia violazione della sua reputazione che sia dannosa per la sua reputazione allora chiede che ci sia il ritiro dell'opera dal commercio vedete come sono tutti esempi di casi in cui non entra in gioco l'aspetto patrimoniale ma solo quello morale personale addirittura a volte sono degli autogold dal punto di vista commerciale cioè come l'esempio di quest'ultimo che vi ho fatto cioè un autore che ritira un'opera dal commercio perché è emerso una questione del genere si fa del male dal punto di vista commerciale perché magari il libro proprio perché è successo quella quell'evento lì sta vendendo di più venderà di più però lui per tutelare la sua reputazione preferisce assumersi questo rischio di togliere dal commercio e addirittura rimborsare l'editore per diciamo la contropartita del mancato guadagno e il lavoro per andare nella rete di distribuzione a ritirare l'opera ok quindi nel senso essendo inalienabili e inestinguibili adesso noi dobbiamo sapere che esistono cioè voi dovete per la completezza dobbiamo comunque per completezza della materia vanno vanno studiati dobbiamo sapere che esistono dobbiamo sapere che possono entrare in gioco in queste quattro situazioni nello stesso tempo però non dobbiamo neanche non dico che ce li possiamo dimenticare da qua in poi però quasi perché sappiamo che tanto non li troveremo nelle licenze nei contratti no anche voi che acquisite del materiale organizzate un evento diffondete un archivio fotografico quello che volete come dire ci potete fare poco per prevenire l'eventuale azione sul piano del diritto morale ok quindi bisogna sapere che esistono e nel caso succeda qualcosa qualche autore o qualche parente erede dell'autore si faccia vivo dobbiamo sapere che sono queste le quattro situazioni in cui si può si può far sentire e palesare dopodiché sappiamo che la vera vita del diritto d'autore si svolge in realtà sul piano patrimoniale cioè su queste due grandi colonne lasciamo i due i due qua a lato non li trattiamo oggi non c'è proprio il tempo tecnico adesso vediamo invece le due colonne relative ai diritti tipo patrimoniale i primi i vedete qua in basso li ho chiamati anche diritto d'autore in senso stretto perché sì perché anche gli diritti anche i diritti morali che abbiamo visto prima sono diritti d'autore però essendo quelli inalienabili inestinguibili poi nei contratti quando uno nei contratti nelle licenze nelle liberatorie quando si parla di cessione dei diritti d'autore si parla sempre di questi di quelli che vengono appunto più precisamente chiamati diritti esclusivi di utilizzazione economica cioè sono esclusivi nel senso che creano una situazione di esclusiva cioè di in latino iuse excludendis aglios e quindi come dire fanno sì che ci sia un rapporto univoco cioè solo un soggetto è titolato a sfruttare quel diritto ecco in questo senso esclusivo cioè quando si dice quel cantante all'esclusiva con una casa editrice vuol dire che si è legato in modo esclusivo cioè solo con quella casa discografica e quindi esclude altri soggetti dallo sfruttamento di quelle delle sue opere questi sono al contrario degli altri che abbiamo visto prima alienabili scomponibili indipendenti l'uno dall'altro quindi alienabili è la differenza che scatta all'occhio cioè questi in realtà devono essere alienabili perché se non fossero alienabili non farebbero il loro lavoro cioè non sapremmo che cosa farcene come autori nascono squisitamente per essere ceduti nei contratti quindi sono alienabili sono scomponibili indipendenti l'uno dall'altro perché nei contratti io posso io autore posso scegliere di cederli tutti in blocco oppure cederne solo alcuni o solo alcuni pezzi posso anche tagliarli a fette cioè posso anche scomporli no c'è il diritto di fare traduzioni ad esempio che lì in mezzo all'articolo 18 questo posso decidere di scomporlo per le varie lingue faccio un contratto con una casa editrice tedesca per il tedesco con casa editrice argentina per lo spagnolo e quindi lo stesso diritto lo scomposto in sottofette più fette sono più gente mangia no si impara anche da bambini quando c'è la torta cioè più la torta taglio a fette più piccole sì magari si mangia meno però mangiano più persone durano fino a 70 anni della morte dell'ultimo autore dopo questa cosa la rivedremo quando parliamo della caduta in pubblico dominio delle opere che a voi bibliotecari invece interessa molto come argomento perché a un certo punto a differenza dei diritti morali che abbiamo visto prima questi scadono questi finiscono non sono eterni durano 70 anni della morte dell'ultimo autore che sono come dire è già un'eternità questa se ci pensate 70 anni della morte dell'ultimo autore sono un'eternità perché vuol dire che se un autore compone un brano musicale ha a 20 anni scatta una fotografia creativa a 20 anni e campa fino a 90 vuol dire che lui ha la tutela per i 70 anni di vita cioè per i restanti 70 anni della sua vita più altri 70 dopo la sua morte vuol dire che in totale è un praticamente quasi un secolo e mezzo 140 anni di diritto d'autore su quel brano musicale o su quella la fotografia o su qualcos'altro io ho messo tra parentesi tra parentesi dell'ultimo autore perché l'ultimo autore nei casi in cui l'opera è creata da più persone no sappiamo che non è che sempre un'opera viene creata da un unico autore pensate a l'esempio che faccio classico è lennon mccartney no lennon mccartney è un duo che ha come dire sconvolto il concetto di creazione nell'ambito della musica moderna perché hanno scritto delle cose che ancora oggi sembrano ineguagliabili e uno è morto nell'ottanta ma in realtà diciamo questa scadenza dei 70 anni non è ancora partita perché perché l'altro paul è ancora vivo e quindi alla i 70 anni diciamo per la scadenza del diritto d'autore sui brani dei beatles scadranno dalla morte di tutti e due quindi finché campa bene paul mccartney anche i figli di john lennon guadagnano da questa sua salute da questa sua longevità perché stanno allungando la tutela delle opere ok dopo comunque questa cosa la riprendiamo quando parliamo di pubblico dominio allora li vediamo velocemente sono il diritto di pubblicare l'opera cioè se notate sono gli articoli dal 12 al 18 bis della legge sul diritto d'autore e sono il diritto di pubblicare l'opera il diritto di riprodurre l'opera cioè di farne riproduzioni cioè di farne copie diremmo è quello che gli americani che avrebbero il copyright il diritto di fare copia il diritto di trascrivere l'opera l'esempio che vi ho fatto prima lo sbobinare questa mia lezione genera un'opera letteraria ma quello è un diritto mio è un diritto che ho riservato in quanto articolo 14 il diritto di eseguire rappresentare o recitare in pubblico un'opera che è il diritto dopo lo rivediamo quando parleremo delle letture in pubblico in biblioteca è il diritto che paghiamo alla siae tutte le volte che compiliamo un bordero organizziamo un evento in cui c'è un pubblico una rappresentazione un'esecuzione in pubblico di opere che può essere anche il dj che in una birreria mette su dei dischi è l'articolo 15 è il diritto che viene versato la siae nel caso delle comunica delle esecuzioni in pubblico poi c'è l'articolo 16 che parla di diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico l'opera che è un diritto che scritto così comunicare al pubblico l'opera riguarda lo streaming riguarda la filodiffusione la diretta televisiva via satellite e via dicendo il mettere a disposizione del pubblico l'opera è il diritto che entra in gioco principalmente su internet cioè carico un video da qualche parte poi la gente se lo va a guardare quando sceglie lei in quale momento in quale modo in quale forma e quello è il diritto generato dall'articolo 16 poi c'è il diritto dell'articolo 17 distribuzione dell'opera distribuire l'opera è strettamente legato al mondo delle copie fisiche cioè faccio copie cioè riproduco articolo 13 che è un diritto ma poi ho anche il diritto di riservare a qualcuno a qualcuno di specifico ad un soggetto specifico la distribuzione dell'opera ed è un diritto che pesa molto perché nel mondo delle copie fisiche pensate appunto ai libri oggetto con cui avete familiarità la distribuzione fa sì che il libro arrivi in libreria cioè che la gente lo veda sugli scaffali e quindi è potente a volte nei libri si mangia il distributore si mangia il 50 55 per cento del prezzo di copertina vuol dire che in un libro che costa 10 euro 5 euro 5 euro e 50 se li dividono il distributore e il libraio ok quindi capite quanto pesa questa questa fase no poi c'è il diritto di tradurre l'opera articolo 18 in realtà ha tre diritti si può scomporre in tre sottodiritti cioè il diritto di tradurre l'opera cioè di cambiare la sua lingua ma anche di fare modifiche elaborazioni creative no fare un remix di un brano musicale è un diritto autodato articolo 18 fare una trasposizione teatrale di un romanzo è articolo 18 anche il pubblicare le opere in raccolta articolo 18 cioè il fatto che io partecipi non so come autore mi invitano a un convegno in cui si parla di diritto d'autore e ognuno produce il suo paper da presentare e poi questi paper vengono raccolti in una antologia di testi sul diritto d'autore ecco io questo diritto posso riservarmelo cioè scegliere di non di cedere il diritto sull'opera ma scelgo che l'opera non venga messa insieme a quella di altri che non venga messa in una raccolta in un'antologia in una compilation di brani musicali via dicendo si aggiunge poi articolo 18 bis che è arrivato dopo perché se c'è un bis vi fa capire che è stato introdotto successivamente che è il diritto di noleggiare l'opera o di autorizzare il noleggio o il prestito questo vi interessa molto perché perché questo vi fa capire che in quanto biblioteche pubbliche avete passatemi il termine una esenzione lo vedremo dopo in un articolo che è il 69 cioè senza cioè se non ci fosse articolo 69 che crea una sorta appunto di libera utilizzazione per le biblioteche pubbliche voi biblioteche dovreste pagare un abbonamento per mettere in prestito le opere di un catalogo editoriale cosa che succede in realtà alle biblioteche private ad esempio che pagano degli abbonamenti pagano delle royalties perché va sotto l'articolo 18 bis il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte di manoscritti vabbè è un diritto particolare non possiamo perderci troppo tempo cioè riguarda quelle opere diciamo che non hanno copie che sono singoli esemplari oppure pochi esemplari numerati passiamo al terzo schema e dopo questa slide andiamo in pausa perché in effetti è una bella una bella tirata così tutta tutta dritta i diritti connessi vi ho già anticipato che sono diritti che appartengono a soggetti che non sono tecnicamente autori no cioè il produttore discografico è un personaggio che ha un peso fondamentale nella realizzazione di un disco di un brano musicale di un fonogramma come dice la legge ma non è l'autore cioè lui produce semplicemente le opere di altri la stessa cosa succede con gli artisti interpreti ed esecutori cioè i cantanti o i direttori d'orchestra cioè coloro che eseguono interpretano le opere di altri nell'esempio dei Beatles di prima sono Ringo Starr e George Harrison ok cioè Ringo Starr e George Harrison che hanno firmato pochissimi brani o forse Ringo nemmeno uno hanno più un diritto d'artista interprete esecutore che è un diritto connesso non è un diritto d'autore ce ne sono alcuni che interessano appunto la vostra attività che sono questi allora diritti relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore cioè un giro di parole per dire per individuare quei casi in cui si pubblica un'opera di un autore che è già caduto in pubblico dominio ma fino a quel momento l'opera non era non era stata pubblicata esempio in un non so spostando degli scaffali in un vostro archivio salta fuori un plico una cartellina un fascicolo dei primi novecento che fino a quel momento non era stata attenzionata si si apre si scopre che un autore un famoso autore locale delle vostre parti all'interno aveva una raccolta di poesie che nessuno fino a quel momento aveva visto l'autore è morto da più di 70 anni quindi non può esserci un diritto d'autore ma ci può essere un diritto di questo tipo un diritto connesso e questo serve a incentivare la pubblicazione di opere di questo tipo cioè opere ritrovate successivamente o che erano state tenute volutamente sotto chiave fino a quel momento se non ci fosse questo diritto come dire chi sarebbe il pazzo che si mette a pubblicare uno trova uno scritto di dannunzio al vittoriale spostando un mobile è così cretino a pubblicarlo così gratuitamente sapendo che tanto i diritti non li può avere perché tanto il diritto è scaduto allora al massimo metterebbe questo scritto sotto in una teca e farebbe pagare un biglietto a quelli che vanno al vittoriale a vederselo invece esistendo questo diritto si incentiva la fondazione vittoriale a fare la pubblicazione ci sono anche i diritti relativi all'edizione critiche scientifiche di opere di pubblico dominio l'ennesima versione dei promessi sposi con commento e note e rielaborazione del testo e riorganizzazione del testo i diritti relativi alle bozzette di scene teatrali non ci interessano i diritti relativi alle fotografie questo ci interessa e come dopo ne parliamo abbiamo delle slide apposta come vi ho detto l'opera fotografica se è di carattere creativo viene tutelata in un modo con un diritto d'autore pieno se senza carattere creativo viene tutelata da un diritto connesso che appunto vi spiego nelle prossime slide c'è anche un diritto relativo alla corrispondenza epistolare sono sicuro che qualcuno di voi in archivio storico o in biblioteca ha anche un epistolare o di qualche autore locale di qualche personaggio famoso locale quello ha un diritto di carattere appunto connesso con le sue regole i diritti relativi al ritratto cioè i diritti dei soggetti che prestano la loro immagine e lo vedremo anche qui dopo quando parliamo delle fotografie cioè diritti di soggetti che di lavoro vendono la loro faccia pensate ai testimonial come gli sportivi, i cantanti, le modelle, le fotomodelle che si fanno ritrarre in una foto per una pubblicità cartellonistica sulle metropolitane lì paghi molto di più il diritto del ritratto che il diritto creativo del fotografo cioè se io chiamo Cristiano Ronaldo a fare la pubblicità per la Nike la Nike darà qualche decina di migliaia di euro qualche centinaia di migliaia di euro a Ronaldo per l'accessione del diritto d'immagine chiamato qua diritto al ritratto e magari qualche migliaia di euro a un fotografo professionista per fargli la foto però vedete che il diritto d'autore in realtà è del fotografo e non di Cristiano Ronaldo perché lui ha un diritto connesso e questo conferma del fatto che i diritti connessi anche se si chiamano connessi non sono minori cioè non hanno un peso minore nel mercato non sono i fratelli poveri, i fratelli minori dei diritti d'autore perché anche qua, in tutti gli altri casi anche gli artisti, interpreti e esecutori se voi chiamate a cantare, che ne so, in un evento sportivo il Super Bowl americano o la finale della Champions League chiamate Beyoncé o Rihanna o Lady Gaga a cantare, a cantare un brano di musica magari degli anni 60 un remix il diritto d'autore è di quello che ha scritto il brano ma in realtà voi state dando molti soldi a questa tizia, alla cantante o al cantante di turno per la sua interpretazione, per la sua esecuzione molti della musica pop questi che vi ho citato ma Lady Gaga in realtà è autrice però gli altri, le altre che vi ho citato sono spesso semplici interpreti, esecutori le canzoni gliele scrivono eppure sono certo che a incassare più soldi sono loro rispetto agli autori dei brani musicali ok? avevo lasciato indietro l'ultimo i diritti relativi ai progetti di lavoro di ingegneria non ne parliamo perché siamo davvero in un mondo che non interessa architettura e ingegneria in una biblioteca mi sembra davvero un po' un po' eccentrico basta, nel senso che li abbiamo visti tutti